L'intraprendente Carmen Guarino è nata e vive nella splendida Salerno. Sposata, con due figli, si dedica con grande dedizione allo studio, conseguendo una laurea in riabilitazione. Come coordinatrice didattica non si ferma e ottiene master accreditati in scienze sanitarie e diventa presidente della Fondazione Casamica, direttore generale dei centri Rete Solidale e presidente impegno sociale, tre importanti realtà supportate da 30 anni di esperienza in questo settore. Esperta in management sanitario e dirigente nazionale terzo settore, ha sempre ottenuto grandi riscontri di pubblico e critica, tanto da volerla fortemente sia come sindaco di Salerno sia come deputata, ma lei non ha mai accettato candidature. Non a tessere di partito, ma con la sua passione e il fruttuoso impegno, ha dato vita a 32 strutture, 150 dipendenti, 30 soci lavoratori, 300 volontari. Dalle sue idee è nata una straordinaria articolazione di servizi, dal commercio alla sanità, dal trasporto all'assistenza sociale, dallo sport al turismo, dall'Infopoint Europa al CAF patronato, dalla ristorazione alla formazione. Carmen Guarino, idee in movimento. Sarno, l'agronoceno sarnese, l'altro centro un po' più specializzato è Cattellamare di Sarno.